Nella patria del sole della pizza di Maradona batte forte anche la passione per la palla spicchi. Ciao a tutti, io sono Fabrizio di A Tutto Basket e siamo qui per far partire questa nuova iniziativa dove parleremo di società, parleremo di storia, parleremo di giocatori, quindi parleremo di tutto quello che ha a che fare con la storia del basket e abbiamo deciso di partire dal basket Napoli visto che sta giocando una pallacanestro davvero bellissima, stupefacente, capitanata dal loro team di allenatori e dai dei giocatori che stanno lanciando letteralmente il cuore oltre l'ostacolo. Andremo a ripercorrere la storia societaria e in generale tutto quello che è stato il basket a Napoli dove ci sono stati alti ma anche molti bassi, quindi bando alle ciance, avremo tutto il tempo del mondo per parlarne innanzitutto vi chiedo gentilmente se non seguite il podcast assiduamente di cliccare la campanellina di lasciarci anche una recensione, cerchiamo anche collaboratori quindi se volete, se vi piace se volete collaborare con noi di scriverci sotto nei commenti oltre ai link che vi lasceremo in descrizione nelle informazioni. Partiamo subito, partiamo dalla fine, nel senso che il basket Napoli attuale non è il basket Napoli di un tempo, quindi al di là della denominazione sociale chiamiamola in questo modo, Napoli Basket nasce in realtà nel 2016 da Ciro Ruggero che fonda una nuova squadra chiamata Cuore Napoli Basket. Con il titolo sportivo della Cilento Basket Agropoli riesce a partecipare alla Serie B 2016-2017 e fanno talmente tanto bene vincendo il girone C e battendo Bergamo Basket in finale nello spareggio playoff che si qualificano per la Serie A2 2017-2018 e tra l'altro vincono anche la prima Coppa Italia LNP, segnatevi questa cosina quindi in due anni il Napoli Basket ha già vinto un trofeo, ha già in Serie A2 e ha già vinto un trofeo vincendo la Coppa Italia della Lega Nazionale Palacanestro. Alla fine della stagione 2017-2018 però il basket Napoli, Cuore Napoli Basket retrocede in Serie B dopo aver perso i play-out con i Roseto Sharks e questo è un bel colpo per la società e appunto avviene questo cambio societario e anche il cambio di nome quindi non sarà più Cuore Napoli Basket ma da oggi sarà Napoli Basket e la squadra viene affidata a coach Gianluca Lulli, Gianluca Lulli ex giocatore di Serie A anche visto alla pallacanestro Teramo. Si va avanti, 2018-2019 la squadra chiude la regola season al sesso posto mettendo a tabellone 36 punti e disputando i play-off perdendo però il semifinale contro Palestina. Nel giugno 2019 la società acquista il titolo sportivo dai Legnano Basket Knights ok? Ottenendo quindi il titolo a partecipare alla Serie A2 quindi un altro passettino in avanti per il basket Napoli e quindi 2019-2020 Napoli cerca la scalata addirittura verso la Serie A dopo tre sconfitte in tre partite perché parte nettamente male Napoli viene esonerato coach Lulli e a sorpresa, a sorpresa perché è un grandissimo allenatore e ci torneremo, viene diciamo annunciato coach Stefano Pino Sacrepanti si arriva all'ottavo posto qualificandosi per la fase dell'orologio ma poi stop per Covid sappiamo tutti, la pandemia 2020-2021 stagione dove arriva la, e anche questa data segnatevela la seconda, la seconda Coppa Italia LNP, Coppa Italia della Lega Nazionale Pallacanestro quindi nel giro di pochi anni Napoli Basket ha già vinto due Coppa Italia dilettanti il 27 giugno 2021, data storica per il basket partenopeo perché in gara 4 battendo l'Apu conquista la promozione appunto dopo 13 anni alla Serie A nel 2022-2021-2022 arriva la salvezza alla penultima giornata contro la Fortitudo Fortitudo che perdendo quella partita retrocederà in Serie A2 e non è ancora salita incredibile, brutto da dire ma è così 2022-2023, dodicesima posizione arriviamo ai giorni nostri dove invece troviamo, dove appunto abbiamo Napoli al quinto posto della classifica al momento in cui registriamo 2023-2024 8 partite giocate, 6 vittorie, 2 sconfitte 697 punti fatti, 646 subiti differenza canesseri di 51 dietro solo a Brescia e Virtus Bologna a livello di differenza canesseri il che è tutto dire perché vi fa capire come questa Napoli sia una squadra spettacolare guardate qualche partita del basket Napoli per capire che è una squadra allenata benissimo da chi? da Igor Milicic ex giocatore doppia nazionalità croata-polacca quindi Croazia-Polonia ha giocato in squadre in realtà per noi comuni mortali neanche tanto importanti perché le più conosciute sono il Procom Sopot che all'epoca spopolava ancora di più di adesso il Tour Telecom Ancara e basta queste sono sostanzialmente le due squadre dove ha giocato a livello un po' più alto carriera d'allenatore abbiamo il Kozalin il Voklavek il Wien poi Polonia a livello di nazionale Besiktas e appunto Napoli Basket ha vinto ha vinto sia da giocatore che da allenatore i suoi successi più importanti sono arrivati sicuramente da allenatore da allenatore ha vinto due campionati polacchi due con il Voklavek e uno con lo Stad Ostrov 2020-2021 quindi salta ovviamente il 2019-2020 che è l'anno della pandemia Coppe di Polonia due il Voklavek e lo Stad Ostrov e due supercoppe polacche Voklavek 2017-2019 ora i palmarès contano contano ma io ripeto la pallacanestro spettacolare che gioca questa squadra io l'ho vista giocare poche volte nel nostro campionato che non significa non voglio fare un parallelismo con il calcio con il Manchester City di Guardiola con le squadre di Guardiola che è una gioca altichità che tutti adesso vogliono fare la ripertenza dal basso e quindi anche nel basket abbiamo questa voglia di giocare sempre a palla lunga per prendersi tiri veloci per prendersi sempre più tiri da tre punti in campo aperto non è questo il discorso il discorso è che tu puoi anche attuare questa politica ma poi devi saperla fare e non è solo questione di avere giocatori adatti perché i giocatori vanno allenati e i giocatori devi dare fiducia questo allenatore qui Igor Milicic io penso che sia destinato a grandi cose e io glielo auguro perché davvero mi piace come personalità davvero mi piace come tipo di allenatore non sono simpatizzante del Napoli Basket in generale non è la squadra che tifo e sono anche abbastanza generalista però signori io voglio dire che a me piace il bel basket giocato e se Napoli continuerà a esprimere questo basket giocato in questo modo posso addirittura augurargli di vincere lo scudetto piuttosto che la Coppa Italia o altro perché se lo merito come assistente il nostro Igor Milicic a Cesare Pancotto Cesare Pancotto uno degli allenatori più importanti nella storia del basket italiano e non solo ha allenato praticamente dappertutto Sassare, Pistoia, Siena, Trieste, Roma ancora Trieste, Teramo, Udine Fortitudo, Bologna in un altro anno disgraziato Ascandona-Vellino Barcellona-Pozza-Ligoto Cremona Polerosa-Montegranaro Cantù e per tre anni Napoli Basket due da vice compreso questo e in uno una piccola di parentesi intermezza 8-9 non ho nominato Forlì-Reggiane-Sangiorgese che sono le prime tre squadre che ha allenato non l'ho ovviamente fatto apposta tra l'altro il palmarès di Pancotto anche lui non si giudica un allenatore o giocatore dai titoli vinti però abbiamo tre campionati di Serie A 2 Pistoia, Siena e Trieste ormai diverso tempo fa però ha anche due migliori allenatori della Serie A il famoso premio che veniva dato che veniva dato appunto al miglior allenatore della Serie A con Udine nel 2005-2006 e con Lavano-Ligriarmona nel 2005-2016 2015-2016 scusatemi ha anche il premio Reverberi del 2005 famosissimo premio che viene dato penso che sia anche ingiusto andare a leggere la carriera di Cesare Pancotto nel senso è scritta da qualsiasi parte la potete trovare anche su internet e io penso che la sua carriera parli da solo Pancotto è un allenatore da stimare è un allenatore bravissimo oltre che una grandissima persona e devo dire che il successo di Napoli è dovuta anche a questa continuità che la società ha voluto dare con Pancotto ormai si sa che nel basket odierno è difficile vedere un allenatore per tantissimo tempo nella stessa società Pancotto siamo a due anni in questa società forse quasi vicino ai tre e sicuramente è un segno di continuità che sta dando tanto sta dando tanto Pancotto tra l'altro prese il posto di fece anche l'assistente di Maurizio Buscaglia quando poi la squadra venne affidata a lui non abbiamo parlato però di Pino Sacripanti Pino Sacripanti che ha avuto un ruolo fondamentale nella costruzione di questa Napoli Basket e nella promozione in serie A di questa Napoli Basket Pino Sacripanti tra l'altro anche lui pochi titoli in carriera una coppa LNP proprio con Napoli un campionato di serie A2 con la GV Napoli e una supercoppa italiana nel 2003 con Cantù quello è stato l'apice probabilmente del suo splendore da allenatore il momento in cui è praticamente esploso come allenatore Pino Sacripanti tanti anni a Cantù tantissimi anni a Cantù allenatore dell'Italia Under 20 per 10 anni WL Pesero Juve Caserta Pallacanesso Cantù ancora Scandone Avellino Virtus Bologna Napoli Basket e al momento a Scafati con l'incredibile vittoria in questa stagione di Scafati contro Milano anche per lui la carriera parla parla da sola ha vinto anche lui un premio di miglior allenatore della serie A1 allenando la Pallacanesso Cantù inoltre abbiamo anche il bronzo medaglia di bronzo medaglia d'argento e medaglie d'oro ai vari europei con l'Italia Under 20 quindi stiamo parlando di tre super allenatori anche se Milicic deve ancora esprimere tutto il suo potenziale ma è a un ottimo punto questa è la storia del Napoli basket attuale ma in realtà Napoli è una storia cestistica incredibile incredibile l'apice è avvenuta quando quando vinse la Coppa Italia nel 2006 Coppa Italia sotto la guida di Piero Bucchi ma prima di arrivare a quell'eldo Napoli dobbiamo fare un passo indietro con la macchina del tempo per andare a vedere tutta la storia o almeno a cercare di capire tutta la storia che c'è dietro a questa gloriosa società tra l'altro premessa doverosa a Napoli ci sono ovviamente diverse società di basket non ce n'era solo una noi parliamo della società sportiva basket Napoli squadra di Palacanesso che giocava le sue partite interne al Palabarbuto famosissimo Palabarbuto fino al 99 però questo club giocava a Pozzuoli con il nome di APL Puteoli e disputava le partite al Palabre di Pozzuoli appunto non va confusa con la partenope Napoli basket società ancora attiva in serie B quindi attenzione a non confondere la nascita di questa società avviene nel 1946 quando Bebedante e Alfonso Arteaco fondarono la libertà Puteoli nel 1956 con la squadra che milita in serie C avviene la fusione con la Fulgor altra formazione cittadina napoletana tre anni più tardi la Libertas riparte dal campionato di prima divisione quindi si scioglie lasciando la Fulgor la partecipazione alla serie B la Fulgor poi proverà in serie A l'odierna seconda serie confluendo con giocatori e allenatori della Juve Caserta dopo uno spareggio perso per l'accesso alla prima serie del 1964 quindi notiamo già dei cambiamenti delle fusioni dei scioglimenti insomma già situazioni abbastanza un po' confuse nonostante gli anni fossero ancora abbastanza indietro con il tempo la Libertas nel 70 fa ritorno in serie C l'allenatore di Fraia il presidente Salvatore Lubrano la squadra tuttavia però è costretta a ritirarsi dal torneo ripartendo dal campionato di promozione nel 73 Fulvio Palumbo prende posto sulla panchina della formazione Flegrea che sta in serie D tre anni dopo nel 76 la Libertas sta in C2 sfruttando anche l'ampliamento dei tornei e il quarto posto in classifica il campo da gioco è sempre quello di Viale Capomazza che per noi che stiamo ascoltando per me che sto leggendo gli appunti che mi sono preso in realtà dire alcune di queste cose è difficile capire perché se non sei di Napoli se non sei di quelle zone è difficile però considerando che il podcast è aperto a tutti magari chi ascolta la idea di quelle parti gli sta venendo un colpettino al cuore in maniera positiva nell'80 81 viene giocato il torneo viene invece giocato in una tensostruttura l'allenatore ancora Fulbio Palumbo ed arriva anche la promozione in serie C1 categoria mantenuta per qualche anno è l'84 quando complice l'ottavo posto ed un nuovo allargamento dei campionati il puteo li sta in serie B2 nell'89 5 anni dopo i puteolani disputano la finale contro Cagliari all'epoca allenata da Massimo Mangano che allenatore molto importante quindi prendete nota c'è anche un palazzetto intitolato a lui partendo la terza partita nel 91 vede Pozzuoli giocarsi la finale persa a Roma contro l'Alpas per salire in B1 quindi comunque sempre a livello medio-alto stiamo parlando un anno più tardi la squadra viene eliminata da battipaglia ma al termine del torneo acquista da Campobasso il diritto a disputare la serie B1 quindi siamo in serie B1 nel 92 si gioca nel buonissimo giocano le loro partite nell'impianto nuovo di Monte Ruscello la compagine giunge ottava e al termine del torneo viene esonerato Pietro Milina Piero Milina scusatemi l'anno successivo come allenatore arriva Enzio Romano anche lui storico giocatore dell'appartenope Napoli in Serie A e si chiude col settimo posto in classifica e lo sonero di Romano nel 94 arriva nelle veste di general manager Valentino Renzi Valentino Renzi è esattamente quel Valentino Renzi che è stato presidente della Lega Basket dal 2009 al 2014 se non sbaglio come allenatore c'è Giovanni Ninni Gebbia mentre la società acquista Fabio Torni poi infortunato Andrea della Valentina Leonardo Busca Matteo Totero e Sandro Trevisan prelevato a novembre la squadra disputa la semifinale contro Ragusa vincendo la prima partita di 17 punti ma perdendo sia in casa sia nella successiva e decisiva gara di Ragusa Gebbia viene confermato alla guida della squadra Renzi come general manager la società perfeziona l'acquisto di della Valentina e Busca rimettendo sul mercato Totero all'epoca non c'erano i buy out all'epoca il mercato era acquisto e vendo quindi plus Valenze ora non ho vissuto quell'epoca quindi non posso dirvi come funzionava però era un mercato un mercato vero e proprio arriva in prestito da Battipaglia Giovanni dalla Libera arriva in prestito anche da Udine Leonardo Conti mentre la società acquisisce i diritti del play Francesco Gambacorta e del pivo Roberto Tortolini arriva un secondo posto al termine della fase di qualificazione dietro Livorno e un primo posto nella fase seguente preludio alla doppia vittoria nella serie finale contro Ragusa la stagione 96-97 vede quindi l'esordio della società del presidente Biagio Lubrano in un campionato professionistico ovvero quello di A2 il settimo posto finale permette all'asse rapide questo era lo sponsor della squadra di qualificarsi per il playoff promozione dove arriva però l'eliminazione in semifinale per mano di Gorizia dopo aver trionfato su Sassari ai quarti di finale 97-98 vede invece Pozzuoli piazzarsi all'ultimo posto che avrebbe significato l'elettrocessione in B1 ma attenzione il ripescaggio permette alla squadra di rimanere nel professionismo evitando anche un possibile abbandono del patron Lubrano che aveva detto che se ne sarebbe andato se fosse retrocessa la squadra 98-99 è l'ultima stagione targata Pozzuoli la squadra si classifica al settimo posto e viene eliminata nei quarti di finale playoff per mano di Trieste e qui ci siamo qui passiamo a Napoli stagione 99-2000 trasferimento a Napoli cambiando anche il nome del club in società sportiva basket Napoli per poi cedere alla società all'imprenditore campano Mario Maione questi aumentò il capitale del societario e consentì la promozione in Serie A nella stagione 2001-2002 quindi finalmente Serie A partecipazione anche all'Uleb Cup nella stagione 2004-2005 qualificazione all'Eurolega 2006-2007 e conquista della Coppa Italia 2006 ha militato in Serie A e ha giocato le partite a Palabarbuto di Napoli fino al 2008 sebbene ci sia un progetto di ricostruzione del vecchio Palasport Mario Argento che non è mai stato finito 20 settembre 2008 poi venne esclusa dal campionato la società basket Napoli e declassata tra l'altro in Serie C regionale quindi questi sono gli avvenimenti più importanti sotto Napoli sotto Napoli abbiamo detto che Quinta in Serie A2 nei playoff promozione 99-2000 2000-2001 seconda in Serie A2 finale dei playoff promozione seconda nel girone B della fase a gironi della Supercoppa italiana 2001-2002 terza in Lega 2 vince in Serie A promozione e viene promossa in Serie A 2002-2003 settima in Serie A quarti di finale playoff scudetto e semifinali di Coppa Italia quindi un ottimo già all'epoca traguardo 2003-2004 quinta in Serie A quarti di finale dei playoff scudetto quarti di finale di Coppa Italia 2004-2005 ottava in Serie A quarti di finale dei playoff scudetto e ha giocato l'Uleb Cup all'epoca l'Uleb Cup era l'Euro Cup di oggi ma era cioè il diritto veniva preso sul campo 2005-2006 la stagione storica quarta in Serie A con le semifinali dei playoff scudetto e vince la Coppa Italia l'unico titolo professionistico del basket Napoli 2006-2007 quinta in Serie A quarti di finale playoff finali di Supercoppa italiana ovviamente quarti di finale di Coppa Italia e gioca l'Eurolega diretto acquisito sul campo quattordicesima in Serie A nel 2007-2008 ricordiamo poi che addirittura il basket a Napoli venne spostata da Gaetano Papalia con i diritti che passò da Rieti a Napoli ma fece un buco nell'acqua ci sono delle vicende giudiziarie che non è mio compito neanche dire in questo podcast posso solo dire che alla fine la squadra giocò con i ragazzini per molta parte della stagione ovviamente perdendo tutte le partite c'erano delle penalizzazioni le partite finivano tipo 150 a 40 adesso sto dicendo dei numeri a caso ma più o meno siamo su quella cosa fino a che poi la società non venne esclusa lì ci sono delle vicende giudiziarie che devono essere ovviamente approfondite in altre sedie o comunque potete farlo anche voi su internet ma non ne parlerò sicuramente io per quanto riguarda Napoli gli sponsor sono stati dal 99 al 2001 record cucina 2001 2002 pastificio di nola 2002 2005 pompea gli sponsor ufficiali 2005 2006 carpisa 2006 2008 la eldo Napoli allenatori piero pasini roberto carmenati piero bucchi andrea mazzon attilio caia maurizio bartocci e piero bucchi piero bucchi quello con più anni alla guida della società record di presenza in campionato mimmo morena 185 richard meson rocca 148 mike pemberty 146 michael anderson 117 valero spinelli 113 alessandro cittadini 94 stefano raiola 91 michel morandè grandissimo giocatore 78 giuseppe costantino 75 ivan gatto 73 record di punti realizzati ufficiali mike pemberty 2385 richard meson rocca 1594 michael anderson 1321 michel morandè 1026 ansu cisei giocatore che a me piaceva tantissimo 1024 jerome allen 14 line greer 905 oscar torres 837 e bennett davison 682 abbiamo anche un articolo preso vi dico anche la fonte dal corriere di napoli scritto il 24 gennaio 2021 che riepiloga i 5 giocatori indimenticabili della storia del basket a napoli vi dico anche la didascalia la palacanessa giocata all'ombra del vesuvio è stata ricca di cestisti di grandissimo livello alcuni di questi sono diventati vere e proprie leggende del basket azzurro ripercorniamo la storia di questi atleti raggruppandoli in una top 5 ora vi faccio un piccolo riassunto cito anche chi l'ha scritto Giuseppe Cacciapuoti quindi onore a lui top 5 del basket a napoli partiamo da Jim Williams se dovessimo pensare al più grande al primo grande giocatore americano pensiamo a Jim Williams assoluto protagonista della conquista il più importante dei trofei mai vinti a napoli però con la parte nope che adesso poi andremo a vedere la coppa delle coppe conquistata nel 70 contro i francesi del Vichy nella doppia finale gli azzurri guidati dal paragon Zorzi e con un giovane autoctono come Manfredo fucile a martellare la retina dovettero cedere 64-60 oltre alpe al palargento di fuori grotta la musica fu completamente diversa la Fides stravisse 87-65 e alza il trofeo quindi Jim Williams abbiamo come secondo giocatore Lee Johnson Lee Willie Johnson nativo di Plummerville ha giocato da professionista nell'NBA in Italia in Israele e in Francia a Napoli ci arriva passando per la Sabestina e Rieti con un breve intervallo in NBA con Houston e Detroit e poi in CBA nell'81 però da Napoli dove rimane fino all'84 veniva chiamato la Gazzella Nera e è stato di quanto si potesse vedere più elegante su un parquet di gioco e ha formato una delle migliori coppie di americani mai viste a Napoli insieme a Rudy Woods terzo giocatore Walter Berry per molti Detroit come veniva chiamato già nel playground di Harlem e dal Rucker Park quando è arrivato a Napoli è stato accolto come una sorta di messia del basket Berry assolutamente marcabile ha una mano sinistra delicatissima ed un modo di avvicinarsi al canesso totalmente efficace da renderlo una vera e propria macchina da punti i suoi tir in sospensione sono ancora nel ricordo degli appassionati di basket partenopei Walter Berry ale ale nel canto d'amore dei supporter terri azzurri lui li ripaga con una stagione da sogno con quasi 30 punti e 12 rimbalzi di media dopo un anno in Spagna fa ritorno a Napoli riuscendo a bissare la stagione con gli stessi incredibili numeri ad oggi Walter Berry è ancora considerato il Diego Maradona della palacanessa napoletana poi abbiamo Mike Bamberti che abbiamo nominato prima the shooting star from Los Gatos California arriva al golf a gennaio 2002 dopo aver vinto un anello con i Los Angeles Lakers in coppia con un certo Shaquille O'Neal o che vuole che Bamberti era un giocatore come possiamo dire quotatissimo all'epoca le sue bombe hanno contribuito prima alla promozione in a 1 della Dino alla Napoli dopo 11 anni d'assenza dei partenopei dalla massima serie e poi a far infiammare il pala barbuto indossando la canotta della Napoli tarcata Pompea idolo indiscusso abbiamo detto che è anche il record di punti segnati e poi La Ingrir La Ingrir io ve lo leggo tutto il pezzo di La Ingrir perché è sicuramente uno dei giocatori più importanti nella storia della Palacanese europea La Ingrir un recente contest online lanciato dalla Lega Nazionale Palacanese ha decretato che La Ingrir è la leggenda del Napoli basket il playmaker USA è stato eletto il migliore fra i 16 giocatori più forti della storia e se questo contest è stato votato dal pubblico giovane non si può però notare che effettivamente è così vincitore della Coppa Italia del 2006 il playmaker americano ha svolto un ruolo determinante chiudendo con 22.6 punti di media e la percentuale nel tiro da 3 del 53,8% che nessun altro riuscirà a ripetere a fine campionato vince il titolo di MVP è forte di una clausola del proprio contratto che prevedeva un escape rules in caso di chiamate in NBA saluta Napoli e vola Milwaukee ci rimane un solo anno e non sarà ricordato come un buon momento per lui perché perde la compagna per un tumore e successivamente decide di tornare in Europa terminerà la sua carriera in giro fa Grecia Italia ovvero Milano Turchia e Russia si ritira nel 2015 la Ingaire è sicuramente uno dei giocatori più importanti che hanno calcato i palchè italiani abbiamo poi da notare anche Dante Jones Alex English Miles Aiken Jumain Jones Jumain Jones mamma mia Mark Simpson e il sindaco Mason Rock Richard Mason Rock abbiamo parlato della parte Napoli ma non l'abbiamo citata noi ci siamo concentrati sulla parte Napoli o parte Nop io non essendo di lì faccio anche un po' di fatica ma non l'abbiamo citata perché abbiamo parlato della squadra che ha vinto la Coppa Italia quindi non abbiamo citato la parte Nop invece la parte Nop la parte Nop chiamatela come lo volete conosciuta al momento anche come PSA parte Nop basket Sant'Antimo è sicuramente una squadra con una storia alle spalle grandissima come abbiamo visto vincitrice la Coppa Italia nel 1968 della Coppa delle Coppe nel 1969 70 due finali anche per lo scudetto ma ci sarebbe da fare una puntata soltanto sulla partenope una bravissima storia fondata nel 57 ha disputato appunto numerose stagioni in Serie A tenendo un secondo posto nel 67 68 e un terzo nel 68 69 ha vinto la Coppa Italia nel 68 battendole il Dorado Bologna e la Coppa delle Coppe nel 70 battendo Vichy come abbiamo detto poco fa l'ultima apparizione tra professionisti risale nel 97 98 in Serie A2 in cui si piazzò al dodicesimo posto davanti appunto alla PL Serapide Pozzuoli della società che abbiamo detto prima che è retrocesso in B1 per problemi finanziari questo dodicesimo posto non servia nulla facendo sparire la partenope e facendo risalire il campionato di A2 nel 98 99 tramite ripescaggio appunto Pozzuoli dopo il fallimento il progetto del rilancio del 98 la partenope Napoli Basket ha continuato la sola attività giovanile quindi sparizione gloriosa di questa società signori io spero di avervi accompagnato in una mattinata leggera parlando di Napoli Basket sicuramente il format è da migliorare sicuramente ci sono tante cose che andrebbero approfondite lo faremo magari parlando di determinati giocatori andando a studiare anche le loro caratteristiche in successivi episodi ma per il momento io penso che questo sia un bellissimo antipasso della giornata di LBA che ci aspetta e non vi vado a dire tutte le partite perché non vi voglio annoiare e non voglio fare invecchiare male il podcast vi dico solo con chi gioca Napoli Napoli gioca domani alle 18 in casa contro Cremona vi auguro un buon weekend da Fabrizio di A Tutto Basket buona sabato e buona domenica